Buonasera a tutti, sono Michele Botrugno, sono un attore e doppiatore da... non so neanche io quanto tempo, però da un po' di tempo. Mi trovo costretto a fare questo video di presentazione. Ho fatto diversi film, teatro, tanti spettacoli in giro per l'Italia, cinema, due film nello specifico hanno partecipato al Festival di Venezia, già nella sezione giornate degli autori, il contagio di Tinterrapax, l'ultimo ha vinto anche una menzione speciale dei nastri d'argento, ma mi sembrava scontato, c'ero io, ovviamente. Che dire, da circa 12 anni faccio doppiaggio, quindi riesco a parlare anche un corretto italiano, e sono alto 1,70 m, sono sceso nell'ultimo anno circa 30 kg, sto continuando ad allenarmi e non so dove mi porterà tutto questo. So solo che la mia gente vuole che io faccia un video di presentazione e questa è la mia presentazione. Grazie mille, un abbraccio a tutti.